Ciao a tutti, sono Panicciammarco e insieme a Andrea sono titolare del Sandwich Time di Civitrova Marche. Sandwich Time è colazione, break e il pranzo veloce. Pranzo di qualità, riusciamo a fare delle preparazioni veloci mantenendo la qualità della ristorazione. Quando arriva a casa un contenitore, il problema del contenitore è l'utilizzo del contenitore. Quindi quando trovi un contenitore che si presta a una soluzione rapida, quindi il forno o il microonde, ci sono una marea di vantaggi. Il problema principale non è preparare, è pulire, che è un grave pensiero. Quindi quando incontra un contenitore facile, semplice e utile, non è altro che contenta. Ricordiamo che è sostenibile, quindi una volta utilizzato può essere gettato tranquillamente nell'umido. Grazie. Grazie.